Carissimi amici è arrivato PaninoTube e oggi siamo con il primo video dell'anno, primo video del 2022 Wow ma che bello, oggi voglio proprio cominciare alla grande questo nuovo anno Infatti oggi scopriremo una delle zone che potremo vedere nel settimo capitolo di Ice Cream su Ice Cream 7 Ve lo dico già, quest'anno voglio pure riuscire a portare tra le serie principali la serie di Horror Brawl Per chi ci permette di vedere la storia dei giochi Kiplerians Da un altro punto di vista è anche la serie di Scary Doll che è un gioco molto carino e a me piace come gioco Quindi ci tengo a portarlo come serie principale, tra l'altro quest'anno uscirà pure Scary Doll 2 Quindi questo vi fa capire che è un gioco in via di sviluppo con una storia da scoprire Partiamo subito ma lasciate qui sotto tantissimi like, lasciate più like possibile per avere un 2022 sempre più bello E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni, due video al giorno per un doppio divertimento Ma adesso partiamo subito, cominciamo, andiamo subito in partita Ma si mettiamo anche facile, dai, almeno così ci divertiamo anche con il nostro caro Roddino Gennaio 1983, beh l'anno prossimo che sarà il 2023 sarà praticamente 40 anni dopo Dai Screen 3, 4, 5, 6, sì perché dal terzo capitolo in poi sono tutti ambientati nello stesso anno, stesso mese Vabbè, schifiamo qua la intro, va, e ci troviamo in partita Beh, l'anno scorso eravamo nella fabbrica di Rodd, quest'anno siamo di nuovo nella fabbrica di Rodd Ma chissà se quest'anno finalmente sconfiggeremo definitivamente il nostro caro gelataio E ovviamente non potevo cominciare l'anno senza interfaccia, no, ormai fa parte dei miei video, no Oh, ce l'ho fatta, non mi prendeva il pallino per abbassare, non me lo prendeva Allora togliamo qua, facciamo attenzione a Meti, buonasera Meti, buonasera Vedi qua, vedi qua, non mi ha visto, non mi ha visto, meno male, meno male Apri qua la porta, mini Rodd non sei di qua, vero? Non sei di qua? Perfetto, allora chiudi qua subito e ci mettiamo subito qua a fare il minigioco Ma io direi di fare una cosa, piazza qua una trappola e ne piazziamo anche un'altra di qua Che roba, e che roba, che qua sennò sto mini Rodd viene a darmi fastidio mentre faccio il minigioco E se farò capire anche il perché voglio fare sto minigioco Metti qua la pallina, ok, perfetto, adesso pallina rossa, pallina verde E che roba, e che roba sto minigioco, non potevano farlo un po' più corto, no, eh E' lungo comunque, cioè ci vuole del tempo, ci vuole almeno un minuto e qualcosa Solo per far sto minigioco E dai, e su, allora, metà l'abbiamo fatta, perfetto, prendi qua, ok Dai, 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 non mi ha preso il pulsante Ok, doppia pallina verde, vai qua, pallina verde, pallina verde, sì Ok, pallina gialla, no, ma l'anno, e che roba però, eh E che roba, su Vabbè, sempre meglio del minigioco di Volnan 2, no, uno Vai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Adesso possiamo prendere qua la maschera del mini rod Eccola qua, in realtà non ci serve più di tanto la maschera del mini rod Però c'è un motivo del perché sono voluto entrare di qua Eccolo qua, ho fatto bene a mettere le trappole Perché già il mini rod era andato lì, era andato già lì dentro Ben ti sta, mini roddino, ben ti sta Eccolo qua, avete visto quel carrello, l'avete visto? Il carrello è salito, è andato di sopra, è andato nel piano superiore Ma adesso ci torneremo molto molto presto Andiamo di qua adesso velocemente Entra qui nella stanza del telefono Ok, siamo entrati qua dentro Adesso andiamo a scrivere qua No, 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 andiamo a scrivere lì al telefono Ma al computer Leggete qua Adesso io metto qua il nome del mio canale Scrivo panino tube Ok, la macchina imballatrice Sta preparando l'ordine di panino tube Tra l'altro questa frase l'ho tradotta io Che prezzi Infatti mi avevano mandato qualche frase da tradurre E questa era una di quelle che avevo tradotto io Adesso in questo modo Abbiamo praticamente attivato l'easter egg No, 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 mini rod però E che roba Torna a dormire Stavi andando di là a dormire Cosa ci fai qui? Cosa ci fai? Eh dai però mini rodino Dai Via, via, via Me ne passo qui di lato Dite che mi ha visto? No, non mi ha visto Non mi ha visto Meglio così, meglio così Guardate qua I pacchetti hanno praticamente preso l'immagine del mio canale Che roba Guardate qua che bello Però avete letto prima la frase che vi ho detto La macchina imballatrice Questa è una macchina imballatrice C'è pure qua il logo del canale Dentro il macchinario Un macchinario che sta imballando dei pacchi E li sta portando qua dentro Qui dentro infatti finiscono i pacchi E dopodiché salgono nel piano superiore Quindi questo ci fa capire una cosa Che nel piano superiore ci sarà una stanza dedicata All'imballaggio dei pacchi Forse qui sopra ci sarà la stanza dell'imballatrice Nel piano superiore E lì se potrebbe trovarsi lì sopra Beh, effettivamente se ne ci pensiamo, no? Facciamo sto ragionamento I Keplerians dal terzo capitolo in poi Ci hanno dato le ente prime dei capitoli successivi Ad esempio su Screen 3 Sapevamo che il quarto capitolo sarebbe ambientato nel covo del gelataio Non sapevamo comunque che il covo fosse una fabbrica Ma comunque dentro un suo edificio Su Screen 4 invece abbiamo visto La discarica Nel senso c'era la porta della discarica Chiusa con un cartello di scarica E ci hanno fatto appunto capire Che ci sarebbe stata una discarica appunto su Ah, è Screen 5 Infatti fu uscito i Screen 5 E lì l'abbiamo visto Ciao Mini Roddino Buon inizio anno Buon 2022 Allora ti auguro tanta felicità per questo 2022 Tanta tanta felicità Io però devo scappare Altrimenti qua mi becco tanto tanto congelamento Aspettate ma non ditemi Ma qui ci sta la parte del medaglione L'hanno messa lì dentro Vabbè siamo riusciti a vederle in anteprima Rod però adesso So che me lo becco già qui davanti No, lì c'è Metti però C'è Metti Roddino Sei da queste parti Roddino caro Non è di qua Non è di qua Ciao Mini Rodd Via, via, via Andiamo, andiamo, andiamo Veloci, veloci, veloci Ce ne andiamo di qua Velocemente E siamo dove c'è il gelato speciale di Joseph Anzi Di Rodd Su Screen 5 invece Abbiamo avuto commenti prima Per quanto riguarda il sesto capitolo Il messaggio della grande cucina E infatti ci siamo ritrovati qua in una grande cucina È veramente enorme sta cucina È enorme questa cucina E quindi può darsi che Quella stanza dell'imballaggio Sia un'anteprima di Ice Cream 7 Infatti qua È l'unica cosa che noi possiamo vedere Per quanto riguarda un prossimo capitolo Un capitolo successivo Rodd potrebbe trovarsi a queste parti Meno male Non è di qua Non è di qua Quindi adesso proviamo a salire di sopra Proviamo ad andare Vediamo se riusciamo a salire Veloce, veloce, veloce Muoviti, muoviti, muoviti Ed ecco qua Stiamo salendo nel piano superiore E qui siamo presenti nella parte superiore della fabbrica Sto carrello sale Sale ancora di più Potrebbe magari essere collegato con la porta lì sopra Con la porta superiore del gelataio Abbiamo una nuova informazione Sappiamo che nel piano sopra la cucina Si trova un'altra stanza Dedicata E non lo so Forse all'imballaggio dei pacchi La conservazione A tutto quanto O forse è dedicato proprio A riempire All'impacchettamento Di tutti quanti i gelati Da distribuire Anche perché se Rodd è una fabbrica così grande Non si limita sicuramente a venderli tramite il suo furgone Ma avrà anche una vendita proprio A grande distanza Forse anche nei supermercati Nei negozi No, se no non aveva senso Farsi una fabbrica così grande Per poi vendere i gelati solo tramite il furgone E poi comunque tutti sti pacchi di gelati Insomma doveva metterli da qualche parte Quindi qui sopra potremmo trovare La nuova stanza dedicata all'imballaggio Dobbiamo pure fare un'altra considerazione Un'altra cosa Faccio un'altra cosa molto molto bella Mi metto il costume da mini Rodd Così posso girare tranquillamente Tanto Rodd Te pareva Te pareva Giustamente me lo becco Appena esco fuori da una porta Me lo trovo davanti Ma Roddino caro Ma buon anno caro gelataio Buon anno Tutto bene Tutto bene Rodd sono così il tuo fan Che mi sono messo pure No aiuto Aiuto Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Si è preso tutte quante le torte in faccia Tutte quante se le è prese No no per poco quelle torte mi facevano da muro Non potevo più scappare Per poco mi è andata veramente molto molto bene Mi è andata tanto tanto bene Comunque tornando al discorso di prima Su Ice Cream 1 Proprio andando proprio nelle origini Abbiamo scoperto che Rodd ha sviluppato Un gelato particolare Con un ingrediente segreto Nel terzo capitolo Abbiamo preparato quel gelato Jay se l'ha mangiato Per farsi rapire da Rodd E farsi portare all'interno della fabbrica Dove siamo qua dentro E poi invece su Ice Cream 4 Noi siamo entrati All'interno della fabbrica Abbiamo scoperto i segreti misteriosi Di Joseph Sullivan Colui che ha creato i migliori gelati A livello mondiale Nel quinto capitolo Abbiamo invece scoperto L'esistenza della discarica Dove sono contenute Tante Ma tanti rifiuti Dedicati appunto All'impacchettamento dei cibi Come ad esempio Scatole di latte E qua possiamo notare qui Tutto il latte Che sta da queste parti Guardatelo qua Il latte che usa Rodd Tutto di qua si trova Tutto di qua Ma che roba Però non trovo quei guanti I guanti blu Che fino a hanno fatto Quei guanti che noi abbiamo visto All'interno della discarica Forse c'erano i mini rod Mini rod E lui si che ha dei guanti Però sono piccoli In confronto con quelli che abbiamo visto E vabbè Roddino E vabbè Che roba Che roba Via 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 Andiamo 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 Ma non stavi dormendo gelataio Ma tu non stavi dormendo Ma ditemi un po' Se mi tocca muovermi qua In sto modo Ditemi un po' Allora vabbè Facciamo una cosa Voi qua nella stanza del telefono Va Entra qua dentro Facciamo il cambio personaggio Così vi faccio vedere un'ultima cosa Questa volta con Jay Charlie Ma la maschera del mini rod Te la sei tolta Ma avevo una maschera del mini rod Se l'è tolta Questo me lo porto con me Non si fa mai Meglio tenerselo Meglio tenerselo Via di qua Di qua Di qua Apri quella porticina Ok Andiamo veloci veloci Poi voglio pure provare ad uscire fuori Ma dov'è Rodd? Ma dove mi ha visto? Ma dove mi ha visto? No no seriamente Ma dov'è? Ma cosa? Ma come ci sei arrivato qua? Ma eri in cucina Rodd Eri in cucina Buon anno Rodd Buon anno No no seriamente Come ci sei arrivato? Stava nella cucina Vabbè Facciamo una cosa Passo direttamente di qua Da dove c'è il museo Via 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 Andiamo 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 Apri qua la porticina Perfetto Adesso scendiamo subito Subito sotto Andiamo all'interno del museo Di Joseph Sullivan Ok Vabbè mini Rodd Basta Pure il primo dell'anno Sti mini Rodd Devono venirmi a dare fastidio Pure il primo dell'anno E non è possibile Non è possibile E comunque Andiamo di qua Veloci 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 Da questo lato Soltanto di qua Possiamo vederlo purtroppo Soltanto di qua Qui possiamo ammirare Il gelato speciale Di Joseph Sullivan Abbiamo visto nei video scorsi Un bug che ci permetteva Di entrare qua dentro Funziona soltanto con Charlie Qui purtroppo Non sono riuscito ad entrarci In qualche modo Non ce l'ho fatta ad entrare E chissà se finalmente Su Screen 7 Scopriremo Nuovi segreti Riguardanti Quel gelato speciale Io spero di non provarlo Comunque Spero che non ce lo facciano provare Altrimenti qua sarebbe veramente Una cosa impossibile Ok Sto mini Rodd Sta ancora dormendo Il mini Rodd Della tessera È lì che dorme Sali personaggio Sali 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 Veloce 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 Che adesso siamo fuori Della mappa Ok Vediamo se funziona Quel bug Mi sa di no Mi sa di no Proviamo a vedere Ok Sì siamo riusciti ad uscire Meno male Meno male Allora Sono voluto uscire qui fuori Tra l'altro Guardate qui l'assenza di estrazione Anche qui su Screen 6 Illuminata soltanto Nel piano inferiore Ma su Screen 4 Le luci sono accese Anche di sopra Quindi bisognerà capire Se O che i Playrens Hanno deciso di cambiare Il progetto Durante lo sviluppo Oppure Qui hanno deciso Di lasciarle in questo modo Modifiche Ma sempre considerando Qui fuori Quindi possiamo considerare Delle cose Qui Nel piano terra Si trova il museo di Joseph Di sopra invece C'è la parte con Il controllo qualità E gli uffici Andando sempre di sopra Ci sta la grande cucina E come abbiamo potuto vedere Dal carrello Qui nel piano ancora più sopra Si può trovare La stanza dedicata All'imballaggio Tutta quella parte Ci sono gli scatoloni E probabilmente Liz Si trova lì sopra Liz si trova di là E dovremmo salvarla Va bene dai Questo diciamo Era una delle teorie Per quanto riguarda Ice Cream 7 Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere Cosa vi piacerebbe vedere In un settimo capitolo Che sono veramente curioso Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi racconto Spallicciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buon giornate Pressionate Pannerette Ciao a tutti E buon panino a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.